Sì, ossa fragili, a volte davvero che si rompono con molta facilità le fratture, soprattutto tra le persone di una certa età. E beh, la causa potrebbe essere l'osteoporosi. Questa è una malattia silente che improvvisamente arriva senza che ne accorgiamo e soprattutto magari se siamo in quel periodo fisiologico della vita delle donne che è la menopausa. Ma qui insieme al professor Corsello, che è tornato a trovarci un ricordo ordinario di Endocrinologia all'Unica Millus di Roma, nonché endocrinologo al Polichinio Gemelli sempre qui di Roma, cercheremo di dare alle nostre telespettatrice, ma anche ai nostri telespettatori, ai nostri amici che ci stanno seguendo, anche loro soffrono, possono soffrire di osteoporosi. Allora, innanzitutto benvenuto. Grazie, grazie. Allora, chiariamo una volta per tutte che cosa succede alle nostre ossa quando vengono colpite dall'ostoporosi. Allora, le deve immaginarsi che l'osso è una struttura dinamica, quindi l'osso viene continuamente rimodellato. Quindi ne abbiamo dei processi di riassorbimento dell'osso e dei processi di apposizione di nuovo osso. Questo raggiunge la maggiore salute dell'osso tra i 20 e i 25 anni, in cui l'osso ha una perfetta microarchitettura e ha una buona calcificazione dell'osso. Poi c'è un sostanziale equilibrio dopo il raggiungimento di questo picco di massa ossea, fino all'età della senescenza, o più precisamente della menopausa nella donna, quindi intorno ai 50 anni, e un po' più avanti nel maschio, a 65 anni, in condizioni fisiologiche. Poi abbiamo una serie di patologie che possono rompere questo equilibrio. A questo punto, vuoi prima per le patologie, vuoi per la menopausa e l'invecchiamento dopo, noi abbiamo questi fenomeni di rimaneggiamento in cui la fase catabolica di distruzione dell'osso prevale sulla componente invece di costruzione dell'osso, e allora l'osso si diventa più fragile, perde calcio, idrossiapatite di calcio, calcio di fosfato, altera la sua microarchitettura e diventa più fragile. È una sorta di alveare, ecco che cosa succede, il nostro osso compatto, a mano a mano diventa come le celle delle nostre abbi, che si allargano, per cui la parte mineralizzata si riduce. E tutto questo non ha dei sintomi, a meno che appunto accade, succede una frattura. Lei ha dato delle cause, ha detto poco fa delle cause, sicuramente la menopausa, noi donne è un periodo fisiologico e andiamo incontro a questo possibile problema, questo sicuramente non a caso le donne sono più vittime di fratture agli altri. E lo sono prima. E le sono prime rispetto agli uomini. Quali sono le altre cause? Lei ha parlato anche di patologie che potrebbero insomma influire sulle nostre ossa. Quali sono le altre cause, professore? Ecco, queste cause fanno sì che indipendentemente dall'invecchiamento noi possiamo anche prima di una età consona per la perdita di contenuto minerale osseo avere fenomeni di osteoporosi. Per esempio noi dobbiamo considerare numerosissime malattie endocrine, soprattutto se la tiroide funziona in eccesso, se c'è un eccesso del paratormone da parte tiroidi, se c'è un difetto degli ormoni sessuali, l'ipogonadismo maschile e femminile, la menopausa precoce o patologie analoghe nel maschio, se c'è un eccesso di produzione di cortisolo endogeno, la sindrome di Cushing, tutte queste condizioni danneggiano l'osso, ma anche altre patologie internistiche, sia di tipo reumatologico, sia di tipo gastroenterologico, tutte le condizioni di malassorbimento possono determinarlo. Ma anche l'assunzione di farmaci, professore, può condizionare... Certo, e c'è soprattutto una categoria di farmaci che sono tra i più utilizzati, che sono i cortisonici e che possono dare questo tipo di danno, non solo i cortisonici, c'è anche gli antiepiletti, c'è anche l'eparina ad alte dosi e poi ci sono gli stili di vita. Bisogna considerare il tabagismo, il fumo è una tragica abitudine, sull'apparato cardiovascolare, per il rischio dei tumori, ma anche per la salute dell'osso. Questo viene sottovalutato. Tenga presente che i farmaci di alto costo negli Stati Uniti, le assicurazioni, quelli dell'osteoporosi, non li rimborsano se fotografano la signora americana che esce con i bigodini per prendere il giornale e che ha la sigaretta. La fotografano e dicono, lei fuma, quindi non le rimborsiamo un farmaco costoso. Perché questo sia molto chiaro, l'eccesso di alcol, l'eccesso di sedentarietà, perché il movimento facilita questo fenomeno positivo dell'osso in senso anabolico. E poi anche stare troppo al chiuso e non esporsi alla luce naturale, che non significa croggiolarsi al sole, che aumenta il rischio di melanoma. Significa avere una buona esposizione alla luce naturale. E noi tutto questo lo vogliamo, dobbiamo prevenire. In che modo possiamo prevenire tutto questo? Professore, lei già ha parlato del cambiamento di stile di vita, immagino alimentazione, appunto attività fisica, implementare, fare attività fisica, che non significa segnarsi in palestra e fare i culturisti, però insomma fare qualche movimento di ginnastica. Con buon senso anche quello. Anche con buon senso anche quello. Sicuramente però ci sono, come dire, possiamo prevenire? Allora, la matrice dell'osso, quella che deve essere calcificata, è una matrice proteica. Quindi un'alimentazione mediterranea, sana, varia, regolare, ricca di proteine. Quindi secondo proteico magro sicuramente è di grande utilità. E' importante anche che ci sia la possibilità di mineralizzare l'osso e quindi il calcio e la vitamina D. E ci sono degli alimenti che aiutano. L'attività fisica ne abbiamo parlato. Abolire il fumo e ridurre l'alcol a quantità ragionevoli, niente super alcolici e quantità limitate di vino. Poi si può sembrare banale, è il principio del take care, che si porta duro e si deve accorti. Esatto, bisogna stare attenti. Nell'attività fisica, l'attività fisica va bene, ma a condizione che non si predispone alle cadute. E' chiaro che chi fa la camminata veloce o il nuoto ha meno probabilità di rompersi, senso strichitiori, rispetto a chi fa il parapendio o la mountain bike o il cavallo o lo sci. Quindi l'attività fisica deve essere un'attività prevalentemente aerobica, di resistenza più che contro resistenza e che eviti ovviamente le scivolate e le cadute. Ma professore ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa pubblicitaria. Vedete qui ho un pezzettino di parmigiano. Il professore ci risponderà se assumere latticini, oppure in questo caso il parmigiano, fa bene alle nostre ossa. Farà bene, chi lo sa, vi aspettiamo. È il tempo di un caffè e torniamo subito. Ben tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Salvatore Maria Corsello. Stiamo parlando di osteoporosi, questa malattia silenziosa che attacca le nostre ossa. Ci siamo lasciati con una domanda, se un pezzettino di parmigiano può aiutare le nostre ossa, come magari anche altri formaggi e altri latticini. È vero o no? È verissimo, perché l'alimentazione è assolutamente importante per l'introduzione di una adeguata quantità di calcio. È in misura minore di vitamina D, perché la vitamina D in realtà per i quattro quinti è prodotta dalla cute in seguito all'esposizione alla luce naturale, e nella maggior parte dei casi va supplementata perché la cute non ce la fa. Mentre il calcio si introduce con gli alimenti, il latte e i latticini derivati caseari sono sicuramente la fonte più importante. Anche quelli a basso contenuto di grassi, anche quelli parzialmente scremati, questi vanno bene uguali, sia per il latte che per i latticini. Ci sono anche altri cibi, le verdure a foglia larga, i broccoli, i cavoli, i cavolfiori, i legumi, le verdure di stagione, poi anche i cereali integrali, la frutta secca e anche i pesci. I pesci, soprattutto le sarde, le acciughe, il tonno, il salmone, hanno un buon contenuto di calcio e in qualche misura di vitamina D. Allora, rispondiamo un po' ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, rispondiamo ad Anna, ci scrive Dalla provincia di Genova ci chiede, soffro di osteoporosi, come posso scegliere un'acqua adatta a me? È vero? Questo è molto interessante perché le acque hanno delle etichette in cui c'è indicato il contenuto di calcio. Se uno soffre di osteoporosi conviene che prenda un'acqua sufficientemente dura, ricca di calcio e questo significa un valore almeno superiore a 150 milligrammi litro. Nell'etichetta è segnato. Tenga presente che esistono in Italia acque anche con 200, 300 e perfino un'acqua che ha 400 milligrammi litro. Sarà il medico a indicare perché se uno c'è calcoli renali meglio di no. Però in una situazione di osteoporosi questo può essere utile. Quindi leggere l'etichetta che ci sia almeno 150 milligrammi litro. Una cosa da sfatare è che l'acqua del sindaco sia molto dura perché si calcificano i tubi. Non è così. È un'ottima acqua, quella non soltanto di Roma, l'acqua di Roma è un'ottima acqua, ma non è particolarmente dura. Quindi in questo caso gli altri alimenti aiutano a introdurre il calcio. Nella maggior parte gli acqua idotti c'è tra i 100 e i 150 milligrammi litro. Allora la prevenzione passa anche attraverso la diagnostica, gli esami diagnostici. Ci sono degli esami per farci capire a che età devono essere fatti questi esami. Allora l'esame d'oro, il gold standard, è la mineralometria ossea computerizzata, la densitometria ossea. Questo è un esame semplicissimo e conviene essere chiari. La MOC. La MOC è un esame semplice, innocuo e a bassissima irradiazione. Talvolta si sente dire non faccio la MOC perché ho fatto un'attacca il mese prima. La irradiazione della MOC, quella col metodo DEXA, quello comunemente utilizzato, dà un'irradiazione veramente minima. E che cosa ci racconta la MOC? Ci sono anche, in questo caso, l'innovazione, la tecnologia è andata avanti. Ci dà anche un valore, il famoso TBS. Esattamente. Il TBS è un'evoluzione e ci dà, se ricorda quello che dicevamo dell'ossa di quelle trabecole, ci dà una misura non soltanto del contenuto di calcio che è appunto alla densità, ma anche della struttura trabecolare. E' il trabecular bone score. Quindi questa è una misura supplementare che oggi i grandi centri danno con la stessa attrezzatura come misura complementare oltre a quel T-score che indica la differenza rispetto ad una persona di pari sesso ai 30 anni. E lì, se scendiamo al di sotto di meno 1, si parla di osteopenia, al di sotto di meno 2,5 di osteoporosi e quindi è necessario di un trattamento. E in base a cosa ci rivelerà la MOC, ci sono delle terapie anche ad occhio, cioè si parla di farmaci, poi parleremo anche di integrazione con la vitamina D, ma ci sono dei farmaci che aiutano in qualche modo le nostre ossa a non fratturarsi? Assolutamente sì. Se noi abbiamo una situazione di osteoporosi, secondo quei criteri di T-score, noi abbiamo farmaci straordinariamente utili, su cui non bisogna avere prevenzioni, perché ci sono delle inutili prevenzioni sui possibili effetti collaterali, ma questi effetti collaterali sono veramente remoti, mentre l'utilizzo di questi farmaci è eccezionale. Abbiamo dei farmaci che agiscono su quei due meccanismi, la maggior parte e più utilizzati sono gli antiriassorbitivi, cioè quelli che contrastano il fenomeno di distruzione dell'osso e sono soprattutto i bifosfonati, è un anticorpo monoclonale che è il denosumab, e poi ci sono delle sostanze estrogenosimili che si chiamano i CERM. Dipende anche dall'età della paziente, immagino, un conto a 50 anni, un conto eccetera. Dall'età e dalla gravità dell'osteoporosi, perché altrimenti noi possiamo utilizzare nelle forme più gravi dei farmaci anabolici, come dei simili al paratormone, il teriparatide e adesso un nuovo anticorpo che si chiama romosozumab, che agiscono viceversa soprattutto nella fase di ricostruzione dell'osso. Ma il risultato netto dell'uno e dell'altro è che si interrompe la progressione dell'osteoporosi, età o malattia relata, ma qualche volta si riesce ad avere, spesso si riesce ad avere, addirittura un regaining, una ripresa di contenuto minerale osso. Cioè l'osso migliora sia in termini di contenuto minerale, sia di quella microarchitettura e il risultato è la riduzione netta del rischio di frattura, che è il nostro obiettivo. Quello di evitare la frattura soprattutto di femore e di colonna. Esatto. Rispondiamo adesso a Elena, ci scrive dalla provincia di Verona, ci chiede, sono in menopausa, ho visto che in farmacia avvengono diversi integratori con la vitamina D, li devo prendere? La vitamina D va presa se è documentato un difetto di vitamina D, oppure come elemento complementare di quei farmaci di cui parliamo prima, in cui c'è un effetto sinergico. Noi abbiamo diverse formulazioni di vitamina D, quelle più utilizzate è il colecalciferolo, che è la formulazione base di vitamina D, che poi il fegato prima e il rene dopo attivano con dei fenomeni di idrossilazione. Poi abbiamo anche la possibilità di avere già delle forme più attive, già idrossilate. Prima di parlare dell'integrazione però, professore, allora lei ha detto che bisogna evidenziare, si deve fare una diagnosi di carenza di vitamina D. Allora come si effettua? È un semplice esame del sangue, no? È un semplice esame. E quali sono i valori di riferimento, professore? Questi sono stati cambiati da società scientifiche per evitare l'eccesso di zelo nella somministrazione della vitamina D. Quindi nella popolazione generale la vitamina D, che in realtà viene dosata in una forma idrossilata, è la 25 idrossi vitamina D, quella già idrossilata dal fegato per intendersi, che viene dosata, è il sistema più accurato. Mentre prima si riteneva 30 nanogrammi millilitro il concetto di sufficienza, adesso è stato spostato a 20. È chiaro che questo cambia se si tratta di popolazioni a rischio, che hanno quelle malattie di cui abbiamo parlato, in cui c'è già un osteoporosi, in cui questo limite di 30 può essere mantenuto. Ma nella popolazione generale, quando supplementare, noi possiamo considerare una situazione di insufficienza al di sotto di 20 e di grave insufficienza, che noi chiamiamo carenza, al di sotto di 10 nanogrammi millilitro. Quindi i numeri da ricordare sono essenzialmente 20 e 10 nella popolazione generale, con un obiettivo di 30 in una popolazione a rischio. Grazie, grazie di cuore al professor Salvatore Corsello. Adesso voltiamo pagina, perché ci dobbiamo occupare anche di malanni di stagione e come rimediare e tornare in forma. È vero Fabiola? Grazie a tutti.